Gentili telespettatori, buona giornata. È in corso la festa dei 10 anni di Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia compie 10 anni. Nasce nel 2012, proprio il 16 dicembre, quindi 16 dicembre, 10 anni. Partiti dall'1, qualcosa per cento, oggi ai sondaggi che danno il 31%. Un percorso di successo indiscutibile. E entrando a questa festa c'è, sapete, quei cartonati dove c'è il buco per mettere la faccia e farvi la foto? Magari in questo cartone c'è qualche vestito strano. Ecco, qua c'è dove mettere la faccia e fare la foto e ci sono le primarie della sinistra. dove viene indicato, dove voi mettete la faccia, occhi di tigre. Quindi dovete fare gli occhi di tigre di Enrico Letta. Poi c'è disegnato una giacca e una cravatta dove, a parte gli occhi di tigre, ci sono soldi del Qatar in tasca, ci sono gli stivali di Soumaoro e poi c'è anche il cane della Cirinna con i 24.000 euro trovati nella cuccia. Pensate un po', l'unico cane al mondo che nella cuccia aveva 24.000 euro. E anche lì nessuno ha capito o nessuno ha voluto dire cosa ci facessero 24.000 euro nella cuccia del cane. Va bene. In questo cartonato goliardico candidati anche tu alle primarie di sinistra. Quindi ironia su Letta, Cirinna e l'astro cadente Soumaoro, l'uomo, il deputato con i finti stivali. Quindi i requisiti richiesti vanno dagli occhi di tigre, di Letta, ai finti stivali finto infangati di Soumaoro, quindi chiamata collezione autunno-inverno alla Soumaoro, e poi ci sono anche i soldi del Qatar, qualche sacco di soldi del Qatar. Beh, ma chiaramente è tutto uno scherzo, una trovata ironica per strappare una risata, e chissà forse anche una riflessione, a quanti in questi giorni stanno prendendo parte all'evento celebrativo organizzato a Roma dal partito fondato da Giorgia Meloni nel 2012, quando si staccò da Berlusconi. Beh, intanto, a parte la goliardia, c'è una grossa tensostruttura che ospita la manifestazione, è comparsa una sagoma di cartone che raffigura in modo irriverente l'immaginario prototipo del candidato del PD. Vabbè, è uno sberleffo, un manichino raffigurante senza volto, con giacca e cravatta, va bene. Intanto vediamo che ai piedi del cartonato c'è anche poi disegnato il cane della Cirinna, altro rimando non troppo difficile da cogliere per chi segue con interesse il teatrino della politica italiana. Poi ci sono ospitate le interviste ai principali esponenti del partito. L'altro ieri c'è stato Ignazio Larussa, sabato, per concludere la manifestazione, arriverà il premier Meloni. Nell'altro lato di Piazza del Popolo ci sono anche gli stand di varie associazioni di volontariato, soprattutto quelle vere, non le ONG di Panzeri e di Somma Oro, le associazioni di volontariato frequentate dai giovani di Fratelli d'Italia, uno spazio di vendita di libri sulla destra italiana, ma anche una cassetta natalizia degli Elfi per i bambini e i presepisti di San Gregorio Armeno. Ecco, poi ci sono anche due grossi alberi di Natale dove ci sono le tradizioni del nostro Natale, il presepe, l'albero di Natale, cosa che in una manifestazione di centro-destra e di destra ci devono essere assolutamente. Bene, intanto, cambiando argomento, siamo ad Omnibus e c'è ospite così Bruno Vespa che spesso va in giro per le ospitate ultimamente e dice che Conte il trasformista, io l'ho chiamato il banderuola, il trasformista è più professionale chiamare Conte il trasformista, uno che cambia opinione a secondo di come serve. Quindi, Bruno Vespa lo chiama il trasformista, io l'ho chiamato il banderuola, ma la bandiera si muove dove tira il vento, il trasformista si trasforma per dove tira il vento. Ecco, siamo nella puntata di proprio di ieri sulla sette a Omnibus condotto da Gaia Tortora. Credo che Conte, dice il volto di Porta Porta, sia diventato un bravo politico, ma onestamente ha fatto tutto e il suo contrario. Lui non può parlare di coerenza, è l'ultima persona. Sono curioso, dice Vespa, di vedere invece il primo vero approccio europeo di Giorgia Meloni. La mia convinzione è che non sia legata ancora ad Orban e ad altri. Lei è andata a Bruxelles come primo viaggio, non a casa. A Bruxelles. Insomma, sono entrati per dire una cosa, comunque. Lei è andata a Bruxelles come primo viaggio, non a casa. Bruxelles ha ottenuto quei quattro soldi di sforamento, di bilancio, per fare questa povera finanziaria. Ho la sensazione che lei voglia andare a Bruxelles senza sfasciare. Ah, che bello. È arrivata una composizione floreale perché abbiamo avuto dei problemucci in albergo e ci hanno regalato questo. Guardate che bello, eh? Che simpatico. Ah, vabbè. Insomma, hanno appena bussato dalla reception quando gli ho detto che avrei fatto una bella recensione su questo hotel onesta, allora sono arrivati dei fiori. e quindi, bello, insomma. Insomma, insomma, insomma. Ecco qua. Va bene, insomma. C'è una buona, diciamo, hanno la buona volontà di sistemare le cose anche se... anche se... ecco, insomma. Anche se... poi ve lo racconterò, forse. Allora, grazie a tutti per avermi ascoltato. vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie a tutti e arrivederci a presto. Ricordatevi che poi poi tra i quattro canali sono poi condivisi video su Facebook nella pagina Teleitalia. Arrivederci a tutti e grazie.